Doppia saluta d'allenamento per il Palermo che ha proseguito oggi la preparazione all'attenente onorato di Bocca di Falco. Questa mattina per il Rosa Nero lavora gruppi che si sono suddivisi tra campo e palestra svolgendo lavori tecnici e tattici. Nel pomeriggio invece seduta aerobica per la squadra di Bruno Tedino conclusa da una partita in porzione ridotta del terreno di gioco. E prima dell'allenamento pomeridiano il protagonista in conferenza stampa è stato dell'Eneacquisto, Radoslav Muraschi. Noi dobbiamo essere consapevoli che i tifosi sono delusi della nostra discesa alla Serie B, però è completamente normale che loro siano delusi. Però noi abbiamo tantissimo bisogno di loro, dobbiamo conquistare i nostri tifosi perché ci aiutano, danno il supporto e io spero che entreremo nella Serie A di nuovo. Non si è allenato con il gruppo Gabriele Rolando che ha svolto fisioterapia, realizzazione e cure dei fisioterapisti invece per Accursio Bentivegna, differenziato programmato, infine per Simone Lofaso.